e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video e signore e signori vi porto uno dei mazzi più belli a parer mio del meta di ora stiamo parlando di un cavaliere della morte in versione eyeliner giochiamo un po' di carte del nuovo mini set e alcune di esse sono davvero molto forti e poi giochiamo insomma un misto di robe che in generale è molto molto buono andiamo quindi a vedere le carte del mini set e le nuove aggiunte a questa lista beh sicuramente c'è il ghast frega giocattoli che è una carta che dà un valore incredibile un deck che comunque di valore ne vuole avere e giochiamo anche squarcia gomma squarcia gomma che è un quantitativo di danni infinito se la riuscite a sfruttare al meglio all'interno di tc inoltre ne giochiamo anche un'altra che tra l'altro può esservi data anche da rune dell'oscurità ma un'arma così forte così value based che deve essere comunque giocata a parer mio per quanto riguarda il resto del mazzo beh giochiamo uno scarabeo per avere consistenza venditore per avere un buon early game assalto del gelo per valore cercatore loro per andare a pescare fili della disperazione removal furia del cactus è una trentesima carta che potete anche sostituire però in alcuni spot è molto aggressiva quindi va bene guardare nel sole per curare vitine dell'estrazione per andare a fare cadaveri fare qualche trade insomma fare delle buone giocate accolita della morte per andare a pescare barone per andare a pescare gist per fare il valore che avete bisogno rotazione colture va in combo ovviamente con le con l'accolita e con quello che da vedeno che andremo a vedere tra pochissimo quindi in alcuni casi potrete pescare in alcuni casi poter andare a rimuovere sarta arcobaleno invece un'ottima carta per quanto riguardo appunto tra dare curarvi eccetera eccetera vipera per andare a spaccare le armi altrui calcafango eccola qui la carta che permette di dare al vostro 1-1 il veleno e tc appunto per andare a prendere uno spaccarma una removal oppure danni dipende se state giocando appunto contro un mazzo aggressivo allora volete removal se volete giocare contro un mazzo o contro volete l'arma e così via l'arma e invece la vipera serve semplicemente per andare a spaccare l'arma dell'altro di cappa aromata ai morti per andare a mettere ulteriore valore removal aggressività può essere giocata in diversi modi squarcia gomma ne abbiamo già parlato carta davvero molto forte cavaliere senza testa value based dottor value based il primus value based reno value based yog value based esplosione vabbè danni value based zilex cure value based e resca ovviamente value based vedete che il late game di questo mazzo è di un valore incredibile avete le carte splendide fortissime che vi permettono di rendere poi un late game quando ci arriverete in discesa completamente un mazzo che secondo me risulta essere davvero molto buono molto figo forte e quindi potrei dire che possiamo andare direttamente con le partite andiamo subito con il primo game di oggi andiamo a vedere chi sarà l'avversario del nostro di cappa ed è un druido druido che sappiamo essere un avversario ostico in particolare c'è questa versione che gioca il 2 6 più eonar che è molto interessante durante la settimana lo teniamo perché comunque una carta che non ho ancora approvato in questo meta vuole anche fuori del cactus che in verità è super aggressiva con contro il druido quindi ci piace andremo con tutta probabilità a giocare a turno dopo però attenzione perché avversario decidi di andare a squinare qui e va a giocare a un draghetto ah purtroppo il draghetto è davvero terribile ci dobbiamo accontentare a questo punto semplicemente di andare a fare ero power e passare peccato perché se non avesse sconato il draghetto ecco che il 5 e 1 qua diventava incredibile sarebbero stati già 10 danni assicurati invece boh decide di utilizzare il coin quando non aveva alcun senso se avesse avuto un turno 3 di follow up e avrei detto ok ha senso ma in questa maniera ti dirà anche di no il problema è che ora il 5 e 1 lo giocheremo probabilmente più avanti magari già turno dopo non lo so vediamo vediamo e valutiamo nel frattempo per ora il 2 e 2 va più che bene il 3 4 è buono per carità decide nuovamente di fare ero power e passa qui e tc possiamo andare a farlo a dire vero un chiamo contro dragon druid forse ha senso farla spella 2 non andrei nemmeno ad attaccare qui possiamo passare il 6 4 di sicuro risulterà super impattante in questa partita questo è il vantaggio prossimo turno possiamo andare di 3 3 più 5 e 1 oppure semplicemente 3 3 più hp l'1 1 1 non mi impensierisce particolarmente a dire vero forse è un highlander non è un dragon il 3 2 è forte ma noi vogliamo giocare per la board quindi è più che fine così decide di andare a fare il value trade noi siamo anche contenti vi dirò peccato perché la 3 2 trovata è risultato davvero essere molto forte e andiamo a fare il trade in questa maniera qui non mi fa impazzire giocare il 5 1 perché c'è l'1 1 semplicemente andrei a lasciarmi tutta a board con 1 di salute va bene già così siamo abbastanza solidi quindi è una board fastidiosa prossimo turno andiamo a mettere tantissime statistiche con il 6 4 che in un match up appunto board centrico come questo potrebbe essere win condition abbiamo anche la spell da 1 che ci dà l'arma è molto interessante già qui potremmo pensare di andare a prendere l'arma da 5 se ce la dovesse dare ci sta pensando molto al turno da fare l'avversario in questo frangente decide alla fine di andare a fare hero power probabilmente farà il trade su 4 1 4 mana rimanenti in cui con tutta probabilità andrà a passare se fa un turno così passivo dire vero potrei anche andare a swarmare tanti danni spazzata wow allora se lui fa così tanta fatica a risolvermi cose da un punto salute io continuerei ad andare dritto andiamo dritto andiamo a giocarci tutto andiamoci a prendere anche l'arma per i prossimi turni e qui è una scelta importante credo che comunque l'arma da 5 risulti essere bella e impattante sono davvero tanti danni che potrebbero arrivare nei prossimi turni mamma mia quanti danni che sono il 4 5 non mi impensirisce più di tanto deve prendersi 5 danni che era quello che volevamo che succedesse non abbiamo un turno ottimo ottimale però credo che comunque l'arma vada più che bene possiamo fare il trade e andare tutto contro testa iniziamo ad essere aggressivi facciamoci cadaveri e via così abbiamo Reno per se ci dovesse iniziare troppa board wow non me l'aspettavo lui va bene non è un particolare problema perché qui sono ulteriori danni che entrano abbiamo la soluzione perfetta e possiamo quindi andarla a giocare infliggerei ulteriori danni e qua vogliamo andare a vincere la partita il prima possibile mamma mia guardate quest'arma quanto è forte ti danni ha già pusciato 12 danni pazzesco lasciamo l'avversario a 14 punti vita abbiamo un Reno dalla nostra che è un vantaggio incredibile se non dovesse fare un turno d'Areno possiamo anche andare semplicemente 2-1 6-4 e compagnia bella il 2-3 è fastidioso ma non è un problema si va a curare ma la nostra arma continua a darci valore semi-infinito quindi va già benissimo così resca ovviamente non ha un buono spot qui se dovesse trovare l'arma a 10 è pesante anche perché noi non abbiamo nulla per andarla a contestare dire a favore si baffi è ok ma non fondamentale a dire vero vorrei fare un altro turno io qui o vogliono spingere danni testa per cercare di chiudere il prima possibile però credo che 6-4 sia davvero troppo impattante per non andarla a fare credo il 2-6 sia fastidioso il 2-2 ci fa pescare e qui l'1-2 è comunque un servitore grosso è lo stesso fastidioso vogliamo pushare danni ma si 3-1 per il momento può anche aspettare il gigante è gratis quindi lo giochiamo immediatamente possiamo spingere danni vogliamo fare la spella a 0 possiamo scambiarla semplicemente guardiamo nel sole non una carta fondamentale al momento ma ce la prendiamo volentieri anche perché questa borda è enorme l'avversario non può assolutamente giocare l'arma ma sta roba quanto è forte cioè è più forte dell'arma di Ignis sta roba sta qui continua a tirare danni all'infinito cioè se l'avversario non ha un minimo di di 3-4 sta roba ti fa vincere solo il game pazzesco ci sono 9 danni al prossimo turno il 6-5 è ottimo arriverà un reno con tutta probabilità arriverà reno oppure no possiamo anche far di noi in verità lo riusciamo a rubare? non riusciamo a rubarlo in verità si che potremmo riuscire a rubarlo se facciamo no però fa schifo tra da tutto che possiamo fare di il trade solo che il 2-4 sopravvive per un danno partirei magari da lei vediamo se ci da qualcosa che ci possa essere d'aiuto vabbè falce vi dirò che è anche fine in questa maniera possiamo fare un turno del genere borsello di monete comunque ok ulteriore valore 6 di sotterrato boh questa roba qui non servirà a niente però va bene possiamo giocare il 6-3 possiamo prendere il suo stesso servitore possiamo andare a fare borsello di monete possiamo pushare qua questi danni e passare forgiare scusate devo forgiare mi sono indicato ma va bene non ha un particolare problema eccolo qui reno che arriva mi va bene su questa board sinceramente non mi preoccupa particolarmente tanto vipera è ottima per la sua arma cosa vogliamo andare a fare in questo turno probabilmente il 6 mana va più che bene così inizierei con a vedere se descobriamo qualcosa di figo il ball di sotterra è comunque ok possiamo andare a prendere tuttavia possiamo fare anche il 5-5 semplicemente pushare ulteriori danni di arma questa volta non aumenta la durabilità ma era una 6-2 quindi non c'è problema e questa volta andiamo a forgiare va bene la vipera ce la teniamo perché sappiamo che ha un'arma in mano quindi non la andiamo a fare questo è grosso questo è fastidioso ma non è grosso è little sono 11 è little perché con l'HP possiamo andare a fare qualsiasi cosa dire è vero possiamo andare a fare il coin in Tureno e poi gli 11 danni che rimangono GG mamma mia quest'arma è stata completamente la win condition di questo matchup ha fatto un quantitativo di danni e ne avevamo un'altra questo è il bello di questo deck spettacolare spettacolare e dire poco davvero figo questo DK andiamo subito col secondo matchup perché non vedo l'ora di giocare un'altra partita e vediamo quindi chi sarà il secondo avversario di oggi giochiamo contro Hunter Hunter è un avversario ostico bisogna giocare bene attorno ai segreti vittime è molto forte abbiamo anche un'accolita per frescare abbiamo anche il cercatore d'oro questo è un bel dubbio su cosa tenere però abbiamo il coin quindi potremmo anche scoinare il cercatore d'oro in tu vittime in tu accolita in tu armata dei morti stiamo a vedere cosa gioca lui a turno 1 l'1-3 l'unico modo per tradarci l'1-2 e nel caso avesse le banane quindi sinceramente ci sta andarlo a spionare secondo me risulta essere comunque impattante ok l'arma che risulta essere comunque forte poteva tradarle effettivamente anche con le banane oltre che con l'arma ma va bene così dobbiamo andare a giocare la spell qui degli 1-1 probabilmente ci andrà a tradare quasi tutto segreto interessante buono buono che ci tenga gli 1-1-1 in questo modo possiamo andare a pescare non possiamo avventi giocare a torna segreto che evoca il pezzo da 3 e andrei a togliere il 2-2 sinceramente eccolo qui era scontato che l'avesse fortissima no way cosa gli ha dato mamma mia quanto è forte sta roba in hunter no non ci credo vince per questa cosa qui mamma mia che forte cioè lui può fare i value trade e curarsi i pezzi in un matchup dove è fondamentale i value trade decide saggiamente di tradarci la 2-1 giusto così tuttavia noi abbiamo la spell da 3 che qui può tradare tutto e sinceramente è vero non è un gran che perché non ha veleno non ha niente però non possiamo fare un turno troppo passivo e la sua board è già buona così peccato che per un mana non riusciamo a giocare zyrax sarebbe stata letteralmente win condition ma va bene ci facciamo tanti cadaveri per il nostro turno 5 che sarà armata che potrebbe risultare molto impattante cuore di oro torvo va bene che lo scambi credo che sia un highlander comunque tolgo comunque è un highlander sicuramente chi giochi il 3-4 in questa situazione a me va più che bene perché possiamo andare di spell a 5 possiamo andare a fare doppio trade ci prendiamo la board siamo abbastanza aggressivi quindi mi piace il 4-6 per carità è molto forte non c'è nulla a dire frantumatore di quarzite non mi fa impazzire tutte via la giocherei in questo frangente è abbastanza pulita andiamo a spaccare anche il 4-3 non abbiamo non abbiamo giro ovviamente piratosso non abbiamo ranti morte poi prendiamo vigore dovrebbe essere utile no va bene ma sei serio cioè quanto forte cioè non non ha alcun senso di vivere di nascere sta roba c'è gli avvocato vabbè non parlo perché noi abbiamo la vipera purtroppo per noi questo è un problema enorme è un problema enorme abbiamo la vipera non è più un grosso problema sinceramente come vogliamo chiudere probabilmente ci vogliamo andare a curare in questo frangente quindi ci sta a fare un turno del genere andiamo a vedere cosa andiamo a discoverare anche 8 salute non ci dispiace in questo matchup è vero costosetta 2 mana ma sono comunque sempre 8 salute ci avviciniamo al nostro reno il che è buono questo 3-7 è completamente inutile al momento reno che prende sempre più valore con tutta probabilità al prossimo turno andrei a congelare direi l'arma qui è super forte super impattante andiamo a giocare anche il 4-4 che arma che cosa ci vogliamo andare a prendere in questo frangente sapete che non lo so bene allora di armi secondo me ne abbiamo già abbastanza abbiamo grandi removal però non abbiamo nemmeno attivatori arma non penso che ci serva più quanto è forte però la scorcia gomma scorsa partita ci ho fatto letteralmente vincere però forse fili qui è più safe andarla a prendere andiamo faccia col 2-3 va bene per il momento è fine reno qui me la collo sinceramente risponderemo anche noi di reno possiamo pushare danni e soprattutto abbiamo bloccato un turno il che è la cosa migliore ok ci dobbiamo giocare attorno a quello schifo cosa gli vogliamo dare gli vogliamo dare veramente sta roba che fa pena come vogliamo chiudere il turno probabilmente vogliamo attaccare sicuramente non credo di voler settare arma ora possiamo andare a partire di 3 mana non abbiamo spell gelo andiamo di 4-3 3-4 è comunque ok sinceramente come servitore chiuderei con l'1-1 che ci va evocare un drop a 2 non vorrei consumare troppi cadaveri sinceramente andiamo a giocare la baccataia a questo punto che ci da ulteriore valore e questo me lo prendo volentieri la board fa schifo perché è terribile tra l'altro lui ha l'ieropower migliore che sono due danni gratis va a scambiare la carta che gli abbiamo dato barili di scimmia non ha un particolare problema va a far l'ieropower e continuerà a fare barili immagino esattamente il turno che va a fare no va di zileax value trade ok e passa qui il turno rimviene una magia potremmo anche andarla a rimvenire vi dirò non è malissimo ma dai questa roba è grossa sinceramente e soprattutto hunter non è che abbia dei grandissimi removal quindi va bene così andiamo a essere abbastanza aggressivi qui ho posizionato qui per un idron qualcosa che ci potrebbe dare fastidio barili di scimmia epic fine a 5-5 va a traddare tutto ordine di morte tuttavia riesce a spaccare il nostro pezzo migliore con il proiettivo infuocato ci tratta tutta quanta la board ottimo turno a parte di opponent che gioca anche un 1-1 estremamente fastidioso nulla a dire cavaliere senza testa è ok ma non al momento sinceramente possiamo andare di 8-8 che segreto può essere quella roba lì comunque non c'è niente che ci canterà l'8-8 quindi andiamo di 8-8 semplicemente vogliamo pescare 11 carte probabilmente vogliamo pescare andiamo a spaccare anche l'1-1 in modo da andarla a baffare nuovamente e possiamo giocare anche il 2-2 non giocano di main a rat trap quindi era ok era di main segreto probabilmente freezing spell ci fa millare una carta non mi preoccupa di millare niente a parte la spell a 10 quindi vedi di non millarmi la spell a 10 se no posso impazzire la cosa che mi preoccupa un pochettino è di un problema spell a 10 vabbè incredibile man cioè cosa man what the fuck no da impazzire no no io queste cose non le posso sopportare man non ce la faccio ti giuro sto sto impazzendo rinviene una magia fa schifo non riusciamo a tradare un 2-3 incredibile ci devo fare sta roba terribile però va bene andrei a settarmi l'arma andiamo a vedere che magia andiamo a trovare voglio iniziare a pushar danni qui e secondo me vinciamo semplicemente di grande questa partita quindi cerchiamo di chiuderla il prima possibile non voglio consumare cadaveri mi servono tutti per l'arma stiamo a vedere hunter non ha grandi modi per andarsi a curare quindi dovrebbe essere fine trappole è ok ma io guarda io ti faccio piovere tanti quei danni testa che non immagini se giochi 4-1 è un folle ma l'hp non riesco a capire il turno che sta andando a fare sinceramente questi 3-1 boh ma va bene possiamo andare a fare il hero power andiamo a spaccare tutto quanto a suo board ma a parte che qui abbiamo sempre vinto credo di valore non c'è modo che lui riesca a cambeccare direi che possiamo andare anche di spell a 3 mi tornerà in mano probabilmente ma va bene andiamo a millare probabilmente andiamo a millare possiamo giocare tempo al 3-5 non serve più a nulla in questa partita quindi va bene così non gli attiviamo il pezzo che è la cosa importante l'1-4 non mi preoccupa va a dare una cavalcatura mimetica scudo di vino fortissimo però non è ovviamente abbastanza lui potremmo rubare il suo 6-9 però sinceramente non mi piace lo possiamo tradare semplicemente con il il drop a 6 probabilmente sarà freezing comunque andiamola a fare no non è freezing ma va bene lo stesso qua spingiamo i danni per cercare di chiudere la partita e possiamo passare no direi di sì a fare a fare Opponente che sta cercando di cambeccare in qualche maniera assurda Ma purtroppo non sa, anzi in verità lo so già che con l'HP noi abbiamo vinto Ma va bene lo stesso Ci portiamo a casa anche questa bella seconda vittoria Molto molto bene direi, nulla a dire Buon game, pulito E GG well played Go next Andiamo all'ultimo E vediamo questo ultimo game allora Contro chi sarà? E per l'attezza andiamo a giocare contro un bel lock Che probabilmente sarà un pain lock Mazza molto forte che se volete vi porterò nei prossimi giorni sul canale La mano non è nemmeno male La spella 5 è molto buona Rotazione un po' lenta purtroppo Sarte è comunque ok Ottime vittime Ok La mano è molto forte Abbiamo turno 2, 3, 4, 5 Abbiamo tutto Abbiamo pure il coin per arrivare magari in late A giocare i nostri pezzi più forti Magari un turno prima Spella 1 non è un particolare problema E non è un pain lock allora Perché se gioca quella spell lì Direi che non è un pain Non so minimamente che mazzo sia Sponiamo immediatamente l'1-2 Molto forte Che bello Sto' carta è bellissima Spettacolare tra l'altro averla adorata Tanta roba Il 3-3 non mi preoccupa particolarmente Peccato non poterlo andare a traddare Per il momento ci dobbiamo accontentare Di pescare solamente un'altra carta Perché il prossimo turno sarà morto questo pezzo Ma va bene Ha fatto il suo Segreto del mage Segreto del mage Questa carta cos'è che ti dà? Mettendo a tua mano Una magia del fuoco casuale Del mago dello stregone Se il fuoco è explosive quindi Potrebbe essere explosive Quindi giochiamoci attorno ad explosive Non è explosive È quella che fa danni al pezzo allora immagino E quindi giochiamo il 2-1 A posto di giocare il 3-3 Interessante come carte No in verità fanno un po' tutto schifo Prendiamo boh il veleno Una cosa migliore Eccolo qua Eccolo qua Infatti era un'esplosiva Bravi A giocare Uno meno attento avrebbe potuto giocarsi il 3-3 Qui e non era in un ottimo spot Anzi Il 3-5 Secondo me risulta essere buono Possiamo andare a fare questo trade Possiamo pulciare un danno Non passare Dobbiamo cercare di mettere più aggressività sicuramente Dobboldo non è preoccupante Il 2-1 non mi preoccupa nemmeno Ho rifiorito Boh vai ovunque Tranne qua Va bene Se l'1-1 mi rimane Vivo può fare questo trade Siamo contenti Andiamola a fare immediatamente Cosa vogliamo giocare ora? E' una bella domanda Perché Non mi fa impazzire quasi nulla Di quello che vedo E direi che questo punto Ci dobbiamo contentare Semplicemente di un 3-3 Che va a fare questo trade Pushiamo un po' di danni testa Io non credo che abbia bisogno delle cure In questa situazione Possiamo andare a giocare il 2-3 tempo al momento Per andare a trovarci una grazia Che non serva molto Ma comunque ulteriore valore Se fosse stato turno 6 Ovviamente se avremmo giocato il 6-4 Che era super impattante Ed era probabilmente win condition In questo spot Ma purtroppo nulla è tutto questo Doppio segreto Mamma mia che fastidio Erivo con il 4-5 Che comunque può essere trattato facilmente Potrebbe essere freezing Però ragazzi Non posso giocareci attorno a freezing Potrebbe essere 8 di armor Non è qualcosa che buffa Quindi possiamo fare anche il doppio trade Tranquillamente qui In modo da non evocargli i pezzi Nel caso in cui fosse il segreto Che ricassa la roba Andiamo a evocare il 6-4 Che è comunque molto buono Questo fa tutto schifo Mamma mia Terribile Boh lei è non morto Lui per le statistiche Man Che pezzi mi hai dato Davvero? Terribili Freezing E va bene Tanto non avremmo mai giocato Una spell Sia per freezing Sia per counterspell Era una follia Reverbery È fastidioso Sicuramente Ma non è un problema enorme Qua vai a sinistra Ovviamente è andato a destra Giusto così Giusto così Possiamo cercare di rubargli quella roba lì A dire è vero Però non ora O meglio Potremmo anche ora Possiamo ora Non possiamo ora Purtroppo Che schifo Fa un po' tutto schifo Mamma mia Terribile tutto Non mi piace Quello che sto vedendo Andrei quasi quasi a sformare Sinceramente Non vedo grandi altre giocate All'orizzonte Andiamo a fare doppio trade In questa maniera Passiamo Potremmo pensare anche Di fare Il semana Non so Vediamo L'eeropower Probabilmente Queste quattro Fastidio esiste Vorrei andarlo a rubare Comunque qua Dovremmo riuscire a vincere L'aggressività Ovviamente appena troviamo L'arma Spella 10 L'arma possiamo prenderla Da davvero tante robe E tc La giochiamo di main Spella 1 Crollo è fortissima Che è riuscito a trovarla Ci va a giocare una 2-2 Ci spacca il 4-4 Va bene Ci va a fare un altro 4-4 Tappa Pai ma Il nostro top deck Non mi fa impazzire Sinceramente Anzi fa proprio schifo Mamma mia Sono davvero turni brutti Non abbiamo le giuste carte In mano Sto pensando sul da farsi O per ovvi motivi Boh direi che possiamo andare Anche Così Almeno ci andiamo Andiamo a cercare Il prima possibile La testa Possiamo fare questo trade Andiamo a testa Se attacca il 4-4 Più un po' ok Esce fuori O-03 Che Da noi Ha più due attacco Quindi va bene Rescaterremo Per un altro pezzo Più avanti Ho messo davvero Tanta board Opponent Questo 4-5 Gli ero vorrei andare a rubare Sinceramente Il problema È che non riusciamo O meglio Ci riusciamo In qualche modo In qualche modo Sì Cioè dovremmo fare Resca Spell da 2 Cioè dovremmo fare Una roba del genere Che è terribile Però Non voglio farlo Disotterrare A questo punto E quindi Non glielo Facciamo disotterrare Ho sbagliato Perché poteva rubare Il 3-1 Io pensavo Che si finisse Di attivare L'effetto qui Va bene Ok Piccolo rischio Ma è fine Possiamo andare A sto punto di fa Ma possiamo scambiare Il 3-4 Non giocarmi Elia è comunque Ok Ha 12 carte Quindi inizia A essere opprimente Ok Aver rirovato il 4-3 Secondo me è stata Giocata più forte Che potessimo andare a fare Il 2-1 Non mi impensirisce Troppo Si fa ulteriori danni Quindi noi continuiamo A pushare Reverberi Interessante Che abbia fatto Sul 2-8 Effetto domino Per graddare Tutto quanto A questo punto Io penso che vada Sempre da una parte Perché Non è mai andata Dall'altra Quindi Comunque è un turno Un po' particolare Quello dell'opponente Secondo me è qui Noi possiamo andare A giocare Tranquillamente Lei Possiamo andare anche A spingere Un po' di danni testa Come giusto che sia Cerchiamo di andare A chiudere la partita Il prima possibile Peccato Che non abbia trovato Le cose Erano un 25% Sono 3 carte Su 12 Quindi Sì Una possibilità No scusa 3 carte su 12 3-6-9 Sì Un 25% Demolitore Comunque ok Va a fare il trade Mamma mia Siamo davvero In remata Più totale Qui Ma il Gavend Fa schifo Boh Prendiamoci un gigante Sinceramente La cosa migliore Andiamo a fare il trade Spingiamo ulteriori danni In testa Vediamo se riesce A tradarci Do più 8-8 Ovviamente non ci riesce Però Do più 6-5 Comunque È molto forte Cioè Ci riesce Grazie agli Alpi Sui effetti E noi dobbiamo Trovare un modo Per tradare Queste 6-5 Che è la cosa Forse più preoccupante Ok Almeno un po' Di valore Yog Non mi ispira Yog Sinceramente Possiamo trovare Più valore Dal Lero Power O 4-3 Torissan Vediamo dove vanno i danni Importante che non vadano qua O faccia Punto Vabbè Lo accettiamo Spacchiamo il 6-2 Lo facciamo rifullare Va bene così Non particolarmente Impattante come cosa Andiamo a giocare anche il 5-1 Passiamo Tutto un po' In salita Va di azzerite Ora inizierà A riprendersi In mano 20 volte Che è un problema Per ovvi motivi Dobbiamo cercare Di chiudere Il prima possibile Andiamo a prendere Il controllo Del 6-5 Ok Questo è buono Possiamo andare anche di coin Possiamo andare di HP Questo è meno buono Sinceramente Però vabbè E dobbiamo sprecare Nuovamente il coin Se no andiamo a millare Non voglio andare a millare Speriamo di andare a vincere In questo turno Perché lui comunque Non riesce a giocarci Più di una zerite Quindi Non ci può uccidere Abbiamo 3-6-12-15-19-29 danni Non è comunque l'ital Ma poco ci manca Lei sono danni Quanti danni abbiamo? 6 6-12-12-15-19-24-27-33 Siamo 1-off Assai divertente Essere 1-off Lui non è d'aiuto E ragazzi Dobbiamo vincerla In questo modo qui Dobbiamo vincerla In questo modo qui In qualche modo Dobbiamo vincerla Dobbiamo cercare Che ci si spacchi Non sono spaccato niente Speravo che ci spaccasse la cosa O che facesse danni testa Yogg Boh La scambiamo Ma non abbiamo niente Che ci possa salvare Abbiamo le piaghe Ero completamente dimenticato Delle piaghe Ero completamente dimenticato Delle piaghe GG Wow Ok Era Davvero tosta Però buono Buon game Effettivamente Gli avevo messo 3 piaghe Aveva 12 carte E tempi Era un 25 E poi è diventato un 30 Un 35 Finalmente l'ha pescato Come è giusto che fosse E niente Ci portiamo a casa Anche questa terza vittoria Un deck sicuramente divertente Interessante L'avete visto Insomma Può fare diverse cose E farle anche molto bene Molto divertenti Quindi ve lo consiglio sicuramente Se volete giocare Qualcosa appunto Sempre un po' particolare Un po' di diverso Un Highlander di K Che a me piace davvero tanto Forse non sarà il mazzo Più competitivo del meta Però sicuramente È un deck Che lascia Grandi soddisfazioni Io direi che Per oggi È davvero tutto Noi ci vediamo domani Ovviamente con una nuova Videoguida E niente Ciao 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 ciao